Bene, arrivati a questo punto, volevo fare il punto della situazione, nel senso che finora, nei vari video che sono stati pubblicati, sono state affrontate delle tematiche, degli argomenti, molto importanti, così come molto molto complessi. Allora, ricordo siamo partiti così da un mix di quelli che sarebbero stati tutti gli argomenti che avremmo esaminato e approfondito nel corso di questa avventura, e dilungandoci appunto su tutto, nel senso che siamo partiti da, mi ricordo, concetti come quello del matrix, quindi la società in cui viviamo, potremmo dire in poche parole, passando alla fisica quantistica, con un particolare rilievo sul concetto, ok, che noi abbiamo di realtà, e la realtà che, come la concepiamo noi, è solamente in realtà, perdonate il gioco di parole, un'illusione, appunto. I molteplici piani, a questo punto mi verrebbe anche da dire, di illusione all'interno dei quali, tra virgolette o meno che sia, siamo racchiusi, ok? Perché, anzitutto, a parte la natura così energetica, invisibile, vibratoria, chiamatela come volete, ondulatoria, della materia, e quindi di quello che noi effettivamente definiamo reale, noi abbiamo un problema anche percettivo, e il problema percettivo forse è uno di quelli più grandi, nonostante io comunque ritenga che la matrice, quindi l'origine, ok, di tutti quanti i problemi derivi in realtà dall'ignoranza, ok? Quindi proprio dalla condizione di non sapere, di avere l'occhio della coscienza, l'occhio dell'anima, ok? Voi chiamatela come preferite, sto usando delle parole indicative, chiusi, ok? Ebbene, quello delle percezioni appunto è un problema serio, nel senso che comunque non solo noi abbiamo delle percezioni limitate rispetto a quello che poi è il grande spettro del mondo e dell'universo, appunto, della sua infinita vastità che ci circonda, ma queste percezioni sono anche viziate da un punto di vista proprio, come dire, mediatico, la società all'interno della quale ci troviamo, che non è per niente quel mondo bellissimo in cui vorrebbero farci credere di vivere, perché fondamentalmente è questo e quindi, dicevo, appunto, la società stessa è la prima responsabile di quella che appunto è la manipolazione delle nostre percezioni e di conseguenza ecco che noi crediamo tutta una serie di cose, o preferiamo credere appunto, scegliendo quindi di non vederne altre, per non doverci scontrare con noi stessi, con le nostre responsabilità, ora non lo so dire di preciso, nel senso che comunque ognuno poi ha delle motivazioni sicuramente individuali. Certo che a livello anche psicologico e comportamentale, come dico sempre, poi ne possiamo tirare fuori anche dei dati che possiamo, ok? Non per forza, ma possiamo, volendo, applicare anche alla massa. Questo è fatto da altre persone, come ho già detto più volte, nel senso che abbiamo anche visto tra le varie cose che la società appunto ha in realtà una struttura piramidale che dall'alba dei tempi è sempre esistito, un potere che è corrotto, insomma, non è che si è autocorrotto. Non so sinceramente se possiamo definire queste persone nostri fratelli o quant'altro, e non so neanche la vera natura, la realtà, di queste persone. Fatto sta che pare che abbiano deciso, diciamo, di intraprendere un percorso diverso da quello che noi possiamo intraprendere. Dico possiamo perché ovviamente non voglio utilizzare verbi come dovere, perché credo che effettivamente nessuno ci obblighi, o comunque magari credo in certi ideali che forse nemmeno esistono. In primis quello della libertà di scelta, della libertà di determinarsi e determinarci. Altre argomenti importantissimi su cui abbiamo discusso, il libero arbitrio, il fatto di essere artefici o meno del nostro destino. Beh, a proposito di determinarci ovviamente come non citare poi anche gli ultimi argomenti che erano quelli più caldi, appunto, della sovranità individuale, del matrix, quindi della nostra società, anche a livello giuridico. Quindi questa prigionia, ecco, all'interno della quale noi siamo racchiusi, che è anche una prigionia, seppur finta, però giuridica, appunto. E tutto questo poi porterebbe a fare ulteriori considerazioni, ulteriori riflessioni, ok? Prima fra tutti appunto il concetto stesso di libertà, ma in tutte le sfere, anche qui, in tutti i piani. In primis quello societario, ovviamente. Che cos'è la libertà? Si può parlare oggi di libertà? Abbiamo visto che in realtà il sistema all'interno del quale viviamo è un sistema fottutamente mafioso, come dico sempre, mafioso da un punto di vista di mentalità, perché la mafia nel suo concetto più ampio altro non è che una mentalità. E quindi, anche per tutti i ruoli che sono nati, ok? In quanto comunque finzioni, oggi chi è che si può ritenere veramente libero? O comunque, si può anche dire che per esempio certe categorie sociali, o anche proprio certe persone, ok? Che magari si ritengono libere, o che magari occupano delle posizioni di rilievo, ok? All'interno della società, per fama, potere, ricchezza, ok? Insomma, tutte delle questioni che effettivamente oggi contano. Non tanto perché continuo in un'ottica morale o etica, quanto piuttosto perché sono cose che in questa società rappresentano una sorta di biglietto. Biglietto VIP però, nel senso che ti permettono di saltare la coda, avere certi favoritismi che altrimenti non potresti avere appunto in assenza di soldi, ragazzi. Con i soldi oggi puoi comprare veramente tutto. Forse qualcuno crede di poter comprare anche la libertà. E non sta a me dire se questo sia giusto o sbagliato, no, anzi, questo assolutamente no, anche perché non lo considero su questo piano. Non sta a me dire se, nemmeno se sia vero o falso, ok? Fatto sta che, e questo così mi fa ritornare in mente questa cosa, nel momento in cui chiunque di noi, ok, possa risultare anche minimamente scomodo per qualcuno, e questo qualcuno direi, quantomeno con la Q maiuscola, ok? Beh, avete già capito. Quindi, sì, non pensiamo che, anche se occupiamo certe posizioni, ok, non ci possa venire fatto niente. Ripeto, ogni qualvolta un individuo, a un certo punto, possa venire ritenuto scomodo, e ci si mette due secondi a farlo fuori. Questo farlo fuori intendo metaforicamente, ma potete pure intenderlo in tutti i sensi. E niente, quindi poi, adesso potrei andare avanti all'infinito, a dire, a riassumere anche tutto quello di cui abbiamo parlato della fisica quantistica, di come la fisica quantistica, di questa nuova, tra virgolette, se si può dire nuovo, ramo della scienza, ci stia aiutando a mettere in discussione tutto quello che prima ritenevamo vero, che adesso permettetemi di nuovo disuare questa parola, e di come essa costituisca, secondo me, una grande speranza in ottica di risveglio della consapevolezza e della coscienza. Parlavamo, appunto, anche di passato, di presente, di futuro, di quello che è successo, di come ci possa aiutare, in realtà, a capire veramente la nostra storia, chi siamo e perché ci troviamo qui, di quella che è la nostra condizione attuale, del futuro che ci attende, ok, e così anche di un sacco di altri temi. E tutto questo per dire cosa? Per dire che, ragazzi, io mi prenderò una pausa, mi assenterò un pochino dalla telecamera perché sento che ci sono ancora molte cose che devo fare irrevocabili, ok, e che devo fare soprattutto in ottica di questo progetto, ragazzi, perché ho deciso di prendermi un impegno e quando mi prendo un impegno lo porto avanti fino alla fine. E diciamo che questo, almeno in una mia ottica personale, è un impegno non indifferente. E quindi ci saranno una serie di cose che dovrò portare avanti e che mi richiederanno del tempo e anche, ovviamente, del relax, del relax innanzitutto mentale. Quindi, beh, non so se a posteriori almeno abbia senso ringraziare perché comunque io, nella mia prospettiva, sto continuando a fare questi video man mano e poi li pubblico, quindi adesso penso che ci vorrà un pochino prima di ricevere dei feedback, ovviamente, come giusto che sia. Tuttavia, l'unica cosa che posso dire per certo è che sicuramente ci rivedremo, penso anche molto prima del previsto, e nel frattempo nulla. Ne approfitto per dirvi state connessi, non al computer magari, possibilmente, ma col vostro cervello, con la vostra mente, con la vostra anima, direi soprattutto, e anche il vostro spirito, magari già che ci siamo. E nulla. Ci vedremo non appena ritornerò sugli schermi. E sarà molto presto, comunque.